Buongiorno, ecco le scadenze di questo mese di aprile 2013. 2 aprile, termine ultimo per la richiesta del Mini Aspi 2012. 3 aprile, verifiche con valida domanda ai commissari esterni e ai presidenti per gli esami di Stato 2013. Verifiche con valida domanda ai presidenti e ai commissari esterni. A maggio le commissioni. 7 aprile, candidatura a valutatori invalsi. 9 aprile, termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità. 15 aprile, delibera adozione libri di testo collegio dei docenti per le classi di scuola secondaria di primo grado. 8 aprile, 6 maggio 2013, presentazione delle domande di mobilità per gli insegnanti di religione cattolica. 20 aprile, concorso per il conferimento di tre cattedre di insegnamento presso la scuola militare di Firenze, tre cattedre di insegnamento presso la scuola militare di Napoli, una cattedra di insegnamento presso la scuola militare di Milano. Solo per docenti già assunti a tempo indeterminato. Nel mese di aprile le istituzioni scolastiche saranno impegnate nella predisposizione degli organici di diritto. Le funzioni SIDI saranno disponibili secondo il calendario. Scuola primaria 26 marzo 5 aprile Scuola dell'infanzia 26 marzo 5 aprile Scuola secondaria di primo grado 26 marzo 20 aprile Buongiorno a tutti da Gitta TV 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 Buongiorno a tutti da Gitta TV